Scusami, scusami, ma mo ti vedi muovere? Sì. E quindi come mai prima no? Chissà che combini tu con quelle manine. Secondo me hai combinato tu. Io? Perché tu sei visto Teo, sei visto il giardino, sei visto l'avatar, sei visto tutto. No, ma perché perché si è girato la telecamera, no? Sì, Vinina, allora facciamo una cosa. Noi l'esperimento l'abbiamo fatto. Vedi questo? Questo è il cellulare vecchio. Io sto parlando col cellulare nuovo. Nuova, nuova. Io per fare le dirette con te sono andata a combattere il cellulare nuovo. Sì, mo per fare le dirette con me, ma quando vai? Cosimo. Come? Non ci credi? Ma che dici? Credo. È la verità. Credimi, è l'angellino, credimi. Credimi. Ma diciamo che tu lo fai anche per tutte le tue dirette che fai, no? In giro. Io non ti tradisco con nessuno, io le faccio solo con te. No, io dico, no, che tradire con me? Nel senso che tu fai varie dirette, quindi ovviamente dovevi avere un telefonino buono, perché sennò al buio è difficile farle le cose al buio. Come?